Gian Nicolacione per LibriTV, oggi 6 maggio 2019 e siamo in compagnia di Porsi Addabbo che è una regista in occasione del web writing, blogging e basi di comunicazione 3.0 questo è il titolo del workshop, momento di lavoro e di formazione organizzato da Senza Barcode, dalla nostra amica Sheila Bobba, oggi qui a Torpignattala in un locale che non mi ricordo come si chiama, tu lo sai? Eroi del pensiero, buono Perfetto, era importante dirlo perché ci ospitano anche per questa intervista Allora Porsi Addabbo è una regista e ha tenuto appunto una parte di questo workshop formativo che riguardava video e comunicazione visiva lei è una regista, ha fatto già delle cose, ne ha fatte parecchie ne vorremmo parlare di una in particolare e ci dice un pochino qualche caratteristica su come è stata realizzata con dei percorsi potremmo dire un po' alternativi rispetto al mainstream il processale ricostruzione che è appunto un film, un video, non so se chiamarlo un corto un vero film sulla ricostruzione riguardante la matrice quindi il recente, come sappiamo, terremoto che c'è stato un video che è stato proiettato anche nei locali del Senato quindi insomma è una cosa che ha avuto un certo riscontro istituzionale, sì in realtà è perfettamente in accordo con il tema del workshop di questa giornata perché qui si parla di videocomunicazione sociale come imparare a fare dei video che non solo siano di appartenenza narcisistica ma proprio insegnare alle persone come si può comunicare attraverso l'immagine noi pensiamo sempre che bisogna essere belli, meravigliosi, gradevoli invece la comunicazione può essere anche fastidiosa, politica e non per questo però da tagliare e da cassare completamente cioè videocomunicare significa esprimere le esigenze di una comunità Perfetto, Porsi Assenti stavamo accennando a delle modalità di realizzazione di questo video e soprattutto per quanto riguarda anche, tu l'hai accennato anche nel workshop diciamo i credits ecco, che metodologia hai usato tu? Io preferisco come artista regalare il materiale in common creative e peraltro vorrei ricordare che è passato il copyright digital act e questo costringerà tutti noi che lavoriamo con le immagini, con le parole, con la creatività a non abbassare la guardia ma anzi a difendere proprio il nostro diritto a una comunicazione libera quindi i criteri con i quali io ho girato il video è stato un progetto no profit anche perché non si specula sulle disgrazie e le disgrazie vanno comunicate e nello stesso tempo devo ringraziare la comunità artistica perché per costruire il video che è molto desueto io ho fatto un videoclip sul terremoto ho usufruito del talento musicale dei Dubiosa Collective che hanno prestato gratuitamente la loro opera e questo tengo a sottolinearlo e nello stesso tempo abbiamo girato delle immagini reali perfette, precise, montate su musica e quindi un evento disturbante è diventato anche un evento di presa di coscienza è stato proiettato al Senato della Repubblica nell'ottica di un processo proprio alla ricostruzione mancata quindi noi che ci occupiamo di immagine che ci occupiamo di comunicazione, di videocomunicazione abbiamo il dovere di continuare ad informare anche quando il mainstream blocca la comunicazione meno male che ci siamo noi più piccini e il Common Creative noi più piccini, io penso ovviamente in questi noi più piccini nonostante la personale mole rientra anche di chi parla e rientra anche LibriTV in qualche modo pensi che ci si riesca a ritagliare uno spazio per quanto riguarda la creazione artistica ma anche la semplice informazione perché si tratta insomma di cercare di incunearsi all'interno di giganti giganti che hanno un potere veramente solo del piano noi però abbiamo il potere della conoscenza e il potere della libertà di espressione che il gigante mainstream invece non concede e qui secondo me è il nostro punto di forza se noi pensiamo che la stessa legge contro il copyright alla quale l'Italia devo dire onestamente sia opposta limiterà la nostra libertà sarà forse più il mainstream a soffrire che non noi che sappiamo creare e credo che alla fine saremo vincenti io faccio parte del movimento artistico contro il copyright e siamo tantissimi quindi se noi per primi cominciamo a decidere di non affidare più la nostra produzione ad una distribuzione alta ma ricominciamo che peraltro ce lo chiede anche la comunità europea di riprodurre cultura da basso allora a quel punto saremo vincenti noi ed è per questo che è importante conoscere è importante fare workshop e soprattutto si usa tanto la parola fare rete ma rete reale non la facciamo mai se cominciassimo realmente avremmo una possibilità secondo me di penetrazione molto maggiore del mainstream senti questa rete che tu questa azione che tu hai cioè che fai che svolgi con gli artisti contro il copyright giusto? sono tanti è internazionale è un movimento internazionale cantanti, registi, musicisti no no e ti volevo chiedere il copyright in qualche modo esiste non è una perversione umana magari può essere diventata poi comunque esiste per tutelare insomma la proprietà dell'opera, dell'ingegno affinché l'artista in qualche modo possa vivere dei proventi ecco annullarlo se questa è l'alternativa che tu proponi poi come teoricamente può vivere poi l'artista se della propria opera si può appropriare chiunque? il problema è che lo Stato ci costringerà ad acquistare licenze le licenze favoriranno sempre e comunque i grandi artisti che già sono riusciti ad avere grandi diritti d'autore per un emergente è comunque difficile non a caso artisti contro il copyright sono quegli artisti che decidono di mettere la loro opera a disposizione ed è stato proprio studiato che se io do la mia opera in CC cioè Common Creative quindi il permesso per esempio di scaricare musica i tre quarti delle persone che hanno scaricato quella musica acquisteranno il biglietto per il mio concerto lo stesso un artista vive del suo lavoro e deve poter vivere del suo lavoro se poi però il copyright di restituzione per chi non lavora nelle grandissime organizzazioni è di pochi centesimi non vivo comunque del mio diritto d'autore quindi forse regolamentarlo in una maniera diversa o ridistribuire quelli che sono gli enti di vigilanza del copyright a dividere in un modo diverso ma se io voglio donare se io voglio che tu scarichi se io voglio distribuire culture io devo poter scegliere poter scegliere se tutelare in un certo modo la mia opera di ingegno posso anche scegliere di donare se è stato già commissionato è come il teatro in Italia il teatro è pubblico e quindi secondo me i teatri dovrebbero essere aperti perché lo Stato ha già commissionato quell'opera la biglietteria è quasi gratuita diverso dal sistema anglosassone nel quale se io non ho fatto botteghino lo Stato l'anno dopo non mi darà un centesimo invece io posso non fare botteghino in Italia e usufruire di denaro pubblico quindi forse ribilanciare i fondi affinché tutti noi possiamo esprimere quindi questa qua è un'ottica anche un po' liberale se vogliamo che riguarda un inserimento di un concetto premiante per quanto riguarda la sovvenzione sostanzialmente premiante per le sovvenzioni e premiante per la promozione perché io credo che ci siano tantissimi geni in questa nazione che non riescono a trovare il canale giusto per emergere secondo me il teatro che c'ha veramente fin dall'antichità il teatro, il cinema, la musica che veramente il patrimonio di tutti noi dovrebbe essere libero, aperto, fruibile da tutti e non dovrebbe avere limiti di censo se io non posso acquistare un biglietto l'accesso alla cultura peraltro è una delle norme della Costituzione è uno dei miei diritti all'educazione e il bello è un diritto all'educazione quindi penso che dovremmo muoverci in questa ottica infatti sono contenta che questo workshop fosse gratuito perché è un modo di contribuire al donare qualche cosa della mia formazione ad altri Perfetto, senti, in chiusura voglio farti una domanda su una cosa che un po' sfiora e limitro a tutto ciò che abbiamo appena detto ed è insomma la questione Radio Radicale come tu sai, Radio Radicale fornisce un servizio un servizio pubblico che in qualche modo è stato commissionato dallo Stato e che per cui ha percepito un compenso e che questo è stato dimezzato all'improvviso è quello che ritengo cultura quello che ha fatto Radio Radicale che poi peraltro con quel compenso per quelle cose ha fatto moltissime altre cose moltissime interviste, convegne e così via presentazioni di libri che non si sarebbero voluti sentire in altri posti e così via e libri che non si sarebbero conosciuti ecco tu che pensi di questo? io credo che ogni volta che si chiude un organo di informazione si chiude un diritto alla conoscenza e che non è giusto limitare il potere di informazione con qualunque mezzo con qualunque strumento su qualunque supporto noi dobbiamo essere liberi di scegliere dove informarci come informarci non è possibile avere un'omologazione di azione di informazione Radio Radicale è stata importantissima senza Radio Radicale ed il suo archivio probabilmente non saremmo stati a conoscenza dei processi le prime sedute parlamentari può piacere può non piacere ma non negateci il diritto di poter scegliere su quale frequenza andare chi ascoltare quale televisione vedere tutti noi siamo veramente importanti in questo momento per il diritto alla libertà di informazione Perfetto, allora ringraziamo Porzia Dabbole chiediamo soltanto di indicarci al pubblico di Libri TV dove trovarla dove reperire le sue cose sulla rete Sulla rete sicuramente sul sito del Partito Radicale c'è processo alla ricostruzione il film invece che è stato presentato a Venezia è purtroppo nelle mani della RAI nonostante fosse un non profit però si può mettere anche in rete privatamente anzi perché non su Libri TV Magari d'accordo grazie grazie a Porzia Dabbo Grazie a tutti